Metro City ed aeroporto di Crotone a Reggio ha approvata la mozione che stanzia 2 milioni di euro per partecipare alla ricapitalizzazione di Sacal. Nel frattempo De Felice annuncia la prossima riapertura dello scalo pitagorico. L'abbraccio dell'antimafia Progetto Sud, riunione della commissione regionale guidata da Arturo Bova nelle sale dell'associazione di Don Giacomo Panizza dopo le recenti intimidazioni. Caso Kindamo parla illegale, l'avvocato Nicodemo Gentile e l'associazione Penelope al fianco della famiglia dell'imprenditrice di Laureana di Borrello, sparita nel nulla un anno e mezzo fa. Crotone imbarca contro i pregiudizi, ha fatto tappa al porto pitagorico Adriatica, l'imbarcazione a vela della popolare trasmissione televisiva Belisti per caso, che mira a far conoscere la sindrome di Williams. Cosenza Pol 2017 ha preso il via al consueto meeting della polizia locale realizzato in partnership con il gruppo Publiemme la CTV. Buonasera dalla redazione di Laci News 24, benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Ha scelto di riunirsi alla Progetto Sud di Don Giacomo Panizza, la commissione regionale antindrangheta presieduta da Arturo Bova dopo le recenti intimidazioni. Vogliamo dare proprio l'idea che si fa sul serio. Stiamo cercando meglio di fare veramente il nostro dovere, ma di dimostrare ai cittadini come che dietro le parole poi seguono i fatti. Oggi ha un grande valore simbolico. Oltre ai comunicati stampa e attestati di solidarietà alle parole, la commissione regionale lascia i palazzi ed inizia con la Progetto Sud di Don Giacomo Panizza ad entrare nelle realtà che a fatica quotidianamente devono farsi scudo contro la criminalità organizzata. Si è tenuta appositamente nella realtà lamettina di recente oggetto di furti e di intimidazioni una delle riunioni della commissione presieduta da Arturo Bova. A parteciparvi anche Don Agnustamile, referente calabrese dell'Associazione Libera, e Maria Teresa Morano, presidente dell'Associazione Antiracket regionale. L'idea che hanno è bella, quella di chiedere a noi cosa potremmo fare perché i gruppi del sociale funzionino al meglio anche quando sono sotto attacco. E noi gli diremo che sotto attacco ci stiamo, non tranquillamente, ma ci stiamo, perché è lo scontro con i prepotenti, con i mafiosi o con quelli che vogliono affondare la Calabria, dobbiamo assumercelo tutti, sia le istituzioni, sia noi gruppi del sociale. Un incontro per valutare strumenti e strategie, anche se qualcosa si sta già iniziando a muovere. Da oggi inizia quest'ulteriore percorso, proprio ieri in Commissione Affari Istituzionali è stato approvato in via definitiva il test emendato dalla legge, abbiamo apportato 18 emendamenti che ancora di più prendono spunto dalle riflessioni che hanno fatto gli auditi. Stiamo vicino alle vittime di mafia, ma le vittime di mafia hanno bisogno di un supporto concreto. Finalmente ce l'abbiamo. Taglieremo le solite sagre, alcune manifestazioni, non arriveranno sostegni, ma saranno sostegni diretti alle vere vittime di mafia. Tiziana Bagnato per la CINUS24. E a Vibo proseguono dibattiti e presentazioni nell'ambito della rassegna tropea, leggere e scrivere. Stasera è toccato a Lirio Abate, cronista dell'Espresso, sotto scorta per via delle minacce a lui rivolte da Cosa Nostra, siciliana e poi dall'ex criminale Massimo Carminati. In sede penale l'impianto, sostenuto dalle inchieste del settimanale romano Annoretto, ma è venuta a meno solo l'accusa principale, l'associazione di stampo mafioso, dalla quale i re di Roma, come vennero definiti lo stesso Carminati e i suoi complici, anche in libri e docufilm, sono stati prosciolti. Rimane comunque il fatto che il processo ha dimostrato che tutti gli episodi intimidatori di minacce, quelli ci sono stati, però il Tribunale non la riconosce come un'associazione mafiosa. Leggeremo le motivazioni per capire con quale taglio hanno letto questi fatti. Sta di fatto comunque che Roma queste cose le sta vivendo, che c'è una situazione di degrado criminale che è ancora in atto. bisogna guardare oggi alle mafie con una ottica diversa, che è quella di vedere non più la mafia con la coppola, la luparo, che parli il dialetto calabrese, ma ben altro. L'Italia ha la classe politica più omofoba d'Europa, un triste primato raccontato attraverso decine di fatti e aneddoti nell'ultimo libro del giornalista Sky, Filippo Maria Battaglia, presentato come abate al festival Leggere e Scrivere. Non possono fare gli insegnanti, né i capi scout, non devono baciarsi e tenersi per mano in pubblico, vanno curati e se possibile eredenti. Da sempre la politica italiana dice di non avere nulla contro gli omosessuali, eppure le discriminazioni continuano. Passano gli anni, cambiano i toni e gli interlocutori, ma il risultato, nonostante gli ultimi passi in avanti con la legge Cirinna, resta lo stesso. Diffidenza e fastidio, fino all'aggressione verbale e all'insù. Uno spaccato di storia che racconta un paese, il nostro, indietro anni luce rispetto al resto d'Europa sul tema dell'omosessualità. Un argomento caldo raccontato nel libro Molti amici gay di Filippo Maria Battaglia, vice capo servizio di SkyTG24.it, presentato insieme al giornalista di La Cia, Alessio Bonpasso, al festival Leggere e Scrivere. Ho molti amici gay e la storia succinta e dettagliata di quanto la discriminazione e il pregiudizio contro gli omosessuali siano radicati nella politica e nella società, garantendo all'Italia l'infelice primato del paese con la classe dirigente più omofoba del vecchio continente. Ma una speranza arriva dai più giovani. Il mio appello è quello di provare tutti insieme, quotidianamente, a fare attenzione e a condannare le discriminazioni nei confronti degli omosessuali nella nostra vita quotidiana. Quando siamo al bar, quando siamo a scuola, quando andiamo in ufficio, davanti alle macchinette del caffè, perché solo in queste circostanze, solo in questo modo potremo riuscire a combattere l'omofobia, in politica e non solo. L'associazione Penelope prende a cuore il caso della scomparsa dell'imprenditrice di laureana di Borrello, Maria Kindamo, e affianca la famiglia nella ricerca della verità. Noi abbiamo sentito l'avvocato Nicodemo Gentile e il fratello di Maria Vincenzo. Abbiamo deciso di affiancare la famiglia perché questo non è soltanto il dramma di Vincenzo Kindamo e della sua famiglia, ma di un'intera comunità, di un'intera collettività. La società civile deve essere accanto a Vincenzo, amplificare la sua voce. Noi iniziamo a farlo, vogliamo fare delle iniziative accanto a Vincenzo perché Maria deve avere comunque una risposta. La si deve a Vincenzo, la si deve alla mamma di Vincenzo e lo si deve soprattutto ai figli, questi figli che sono stati distrutti da questa vicenda. Io sono alla ricerca dell'idea ben precisa di quello che è successo e anche qui con l'associazione Penelope a fianco lotteremo per avere verità e giustizia. Il silenzio non dovrà mai prendere il posto di Maria. Non sempre queste vicende hanno una soluzione nel breve, però siamo certi, convinti che una procura importante come quella che sta indagando non lascerà niente al caso. Una commissione parlamentare di inchiesta per fare luce sui tanti lati ancora oscuri dell'inchiesta denominata Tangentopoli che nei primi anni 90 determinò la caduta della Prima Repubblica. Lo propone il segretario nazionale del PSI Riccardo Nencini, sottosegretario e le infrastrutture nel governo Gentiloni, ma non convince Stefania Craxi, figlia del leader socialista deceduto nel suo esilio di Ammamè, oggi a Vibo Valencia, ospite del nostro Tg Giorno. Sentiamo. È comunque una buona iniziativa, certamente il tempismo a fine legislatura fa sospettare che sia un'iniziativa di tipo strumentale. Dopodiché io credo che non sia necessario solo inaugurare una commissione di inchiesta sul più grande scandalo della Prima Repubblica, ma anche allargare l'orizzonte a tutti i fatti che avvennero tra il 92-93, le famose strage di mafia, la trattativa Stafato-Mafia. Io depositai un anno fa un progetto di legge per una commissione di inchiesta fatta in tal senso che non ha mai avuto seguito. Attualità in cui si inserisce anche l'autocritica di Di Pietro, che in quegli anni fu uno dei protagonisti dalla parte dell'accusa. In realtà è stata una comparsa utilizzata da quei poteri finanziari nazionali e internazionali che hanno inteso distruggere un sistema politico e uomini che si sarebbero opposti alla svendita del patrimonio dello Stato. Di Pietro si è arricchito negli anni della politica, contrariamente mio padre. Io ritengo che non abbia la statura né politica, né morale, né linguistica per occuparsi di mio padre. Voltiamo pagina, sono proseguite questo pomeriggio le sessioni informative della quarta edizione del meeting di Polizia Locale, ospitate al Castello Svevo di Cosenza. La Kermess, organizzata dalla Beta Professional Consulting, attrae l'attenzione dei corpi di Polizia Municipale di tutta Italia. Tre appuntamenti pomeridiani al meeting di Polizia Locale in svolgimento a Cosenza nella suggestiva location del Castello Svevo. A cura della fondazione ASAPS, sostenitori e amici della Polizia Stradale, il comandante Girolamo Simonato, supportato dall'ispettore Gianluca Fazzolari e dall'esperto Raffaele Chianca, ha relazionato sull'omicidio stradale e sulle nuove norme riguardanti la contestazione di questo reato solo recentemente introdotto in Italia. Contestualmente si sono svolti altri due incontri, uno relativo alle novità sui controlli dei pubblici esercizi, l'altro sulla videosorveglianza e sul conflitto tra la necessità di garantire contemporaneamente la sicurezza e la privacy. I seminari di aggiornamento hanno tra l'altro messo in evidenza l'ampliamento delle funzioni svolte dalla Polizia Locale, in un contesto reso sempre più complicato dalla carenza di personale e dalla crisi finanziaria che affligge la pubblica amministrazione. I comandi stanno rimanendo spogliati da personale, la mancanza di turnover collegata prima ai continui blocchi che ci sono stati a livello statale per la spending review, per rientrare dalla crisi economica, unita adesso al deficit finanziario in cui versano tutti i comuni. Le possibilità di assunzione sono limitate. Accanto agli eventi di formazione e aggiornamento, anche una interessante performance creativa della fotografa Stefania Sammar, organizzata in collaborazione con l'Accademia New Style. Dai bozzetti stilistici realizzati dagli allievi è stata prodotta una divisa futuristica della Polizia Locale. Domani, nella seconda e ultima giornata della Kermess, ampio spazio sarà dedicato agli studenti, all'educazione stradale, dal concorso su civica ed educazione alla convivenza a cui hanno partecipato le scuole cittadine. Salvatore Bruno per la Cineus 24. Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria approva la mozione che stanzia 2 milioni di euro per partecipare alla ricapitalizzazione di Sacal. Altri 500 mila euro dovrebbero arrivare dalla Camera di Commercio. Nel frattempo De Felice annuncia la prossima riapertura dell'aeroporto di Crotone. Reggio vuole entrare in Sacal e De Felice, che ha preso parte ai lavori dell'ultimo Consiglio Metropolitano, l'aspetta a braccia aperte. L'Assemblea, su proposta del Vice Sindaco Riccardo Mauro, ha approvato a maggioranza la mozione che impegna il Sindaco e i dirigenti a valutare la concreta possibilità di stanziare quasi 2 milioni di euro per l'acquisto delle quote messe a bando da Sacal per la ricapitalizzazione. Il termine scade il prossimo 31 ottobre e non c'è tempo da perdere. La somma disponibile per la città metropolitana sarebbe sufficiente a coprire circa il 10% delle quote sul 12 totale che Sacal ha messo a bando. Per coprire il restante 2% ci sarebbe in campo la possibilità legata alla Camera di Commercio di Reggio, che nei prossimi giorni deciderà se partecipare con uno stanziamento vicino a 500 mila euro in modo da garantire alla città dello stretto un ruolo strategico. Non sono mancate però le perplessità dell'opposizione che tramite Edoardo Lamberti Castronuovo ha chiesto l'UMI sulla necessità di effettuare un'operazione del genere proprio adesso e senza conoscere nel dettaglio la situazione economica in cui versa Sacal. La mozione approvata dal Consiglio tuttavia prova a salvare il salvabile e inserisce alcune clausole di recesso la principale delle quali dovrebbe operare se a dicembre il Consiglio di Stato non dovesse confermare l'affidamento degli scali calabresi alla Sacal. Da Reggio De Felici ha poi fatto un annuncio importante che riguarda l'aeroporto di Crotone, che dovrebbe essere riaperto nel mese di novembre grazie alle trattative avviate con una compagnia seria, per come l'ha definita l'ex prefetto. Le indiscrezioni portano all'Austian Airlines, società controllata dal colosso Lufthansa. Riccardo Tripepi per la CNews24 E a Santonofrio è acceso più che mai il dibattito sulla realizzazione dell'eco distretto consortile che dovrà accogliere i rifiuti di tutta la provincia. La nascita di un eco distretto a Santonofrio continua ad essere al centro di un'accesa polemica tra quanti lo vorrebbero e quanti invece si oppongono con tutte le forze. La polemica, nata in paese, ha scatenato la reazione dei centri limitrofi. I più agguerriti sembrano essere gli abitanti di Filogaso, che lamentano come l'impianto impropriamente chiamato di scarica sia più vicino al loro paese che a Santonofrio. Per tranquillizzarli tutti, o almeno provarci, è stata indetta un'assemblea pubblica all'incontro moderato dal direttore del sito racinioso24.it, Pasquale Motta, esperti del settore che, documenti e slide alla mano, hanno spiegato come funzionerà l'eco distretto. Assente il comitato del NO, che ha preferito affidarsi ai social per ribadire la propria contrarietà. In sala, nel momento in cui la parola è passata al pubblico, è stato sollevato qualche dubbio. Noi siamo favorevoli, molto favorevoli all'eco distretto, ma siamo estremamente contrari alla discarica di servizio annessa. I cittadini devono sapere anche nel momento in cui viene fatto un impianto di trattamento basato su una certa utenza, quanto il compenimento che verrà a parte di dicendo, quando è liberato anche a livello economico. La nostra preoccupazione è che, se effettivamente dovesse essere realizzata una discarica a Santonofio, annessa all'impianto, i tempi di costruzione, di realizzazione dell'impianto andranno alle lunghe. Mentre invece la discarica, che sarà costruita dai privati, sarà costruita, realizzata in breve tempo, due o tre mesi al massimo. Ecco di scarica, sì o no? Sì, se la fanno come la sta spagando, bene, se no no. Rassicuranti le parole di Francesco Martino, esperto di impianti di trattamento rifiuti. Voi avete, siete una botta di ferro, perché avete una struttura pubblica che controlla queste opere con grande professionalità e ve lo dice uno che progetta in tutto il mondo. Cristina Iannuzzi per la CNews24. Voltiamo pagina, diamo ora il benvenuto all'ospite di questa sera che è Giuseppe Conocchiella, presidente dell'associazione Io vedo con le mani, che si occupa di fornire consulenza e supporto specialistico ad utenti con deficit visivo, uditivo e naturalmente anche alle loro famiglie. Tra le tante iniziative questa sera presentiamo la prossima in programma per sabato 14 ottobre un incontro dal titolo Alunni ciechi, modelli, metodi, prassi e strumenti. Buonasera presidente Conocchiella. Con la quale quindi le finalità di questo importante evento che si svolgerà all'auditorium complesso Valenzianum di Vibo Valencia. Sì, il messaggio che vuole lanciare per l'appunto il convegno è quello di far conoscere le specificità degli interventi che sono necessarie a supportare le persone affette da cecità o ipovisione. La nostra associazione crede parecchio nel fare rete, nella rete e infatti abbiamo il piacere di avere tra i relatori dei professionisti esperti nel settore, ciascuno per l'appunto nella propria area di competenza. Abbiamo il comitato scientifico che è composto dalla dottoressa Antonella Valenti che è professore di didattica e pedagogia speciale del Dipartimento degli Studi Umanistici dell'Università della Calabria e dalla dottoressa Carmen Monteleone che è psicologa, psicoterapeuta ed educatore tipologico, nonché per l'appunto anche esperta in disturbi dell'apprendimento. Tra i relatori avremo il piacere di poter ascoltare per quanto riguarda la parte legale e la parte legale l'avvocato Nocera che è una persona riconosciuta a livello nazionale per le sue competenze e nonché il presidente del comitato dei garanti. avremo il piacere di poter ascoltare anche Guido dell'Acqua che è il referente del MIUR per quanto riguarda l'area BES e inoltre il tavolo si è arricchito della presenza della dottoressa Paola Terranova che è una tifologa presso l'Istituto regionale per i ciechi Giuseppe Garibaldi di Reggio Emilia. Bene, insomma, professionisti a disposizione di questi ragazzi, delle loro famiglie, sicuramente per un appuntamento al quale invitiamo anche i nostri telespettatori. Grazie quindi a Giuseppe Conocchiella dell'Associazione Io vedo con le mani. Da un'iniziativa ad un'altra andiamo ora a Crotone, ha fatto tappa infatti al Porto Adriatica l'imbarcazione a vela della popolare trasmissione televisiva Velisti per caso che mira a far conoscere la sindrome di Williams. Vediamo. Nicola, da quanto tempo siete in mare? Io da Genova fino adesso, poi dopo partiamo da qua, andiamo a Bari, Bari-Ancona, Rimini, Venezia e Trieste. La vela come terapia per la sindrome di Williams, una malattia genetica rara caratterizzata da disturbi dello sviluppo associati nel 75% dei casi a cardiopatia, ritardo psicomotorio, distrofismi facciali caratteristici e profilo cognitivo e comportamentale specifico. È uno degli scopi del progetto The Williams Tour Italia. 14 anni fa io, residente a Fano, una città di mare, appassionato di barca e vela, ho coniugato la vela con una di queste patologie che hanno questi ragazzi, cioè lo strabismo. Lo strabismo è praticamente l'asse degli occhi non corrisponde, cioè hanno uno più alto più basso. E allora mi sono studiato questo progetto perché portando a bordo questi ragazzi e mettendoli a contatto del paiolo, del pavimento, della barca, loro ricevono i movimenti dell'acqua, i movimenti del mare, quindi hanno questi movimenti del mare e devono trovare questi equilibri, quindi è una sorta di terapia. Non solo informazione e divulgazione, ma anche raccolta di fondi da destinare alla ricerca un progetto sposato da velisti per caso e a Crotone dall'assessorato alle politiche sociali in sinergia con lo yachting club Crotone. Questa qui è un'unica concorsione e me la voglio sfruttare tutta anche per conoscere nuove persone, amici di Nicola, conoscere meglio tutte le persone di equipaggio, farmi conoscere a tutte le persone, farmi capire come sono ragazzi come me e per mandare anche avanti questa vacanza, questa vacanza lavoro, perché comunque qua si impara a salire le vere, imparare un po' come il mare, le onde, il vento, si parla un po' a guidare, si impara a cucinare, si parla a convivere con le persone. Una barca a vela contro i pregiudizi, poiché non c'è limite che possa contenere l'orizzonte né confine che possa fermare le vele di Andrea, Nicola e Eugenio. Antonella Marazziti per l'AC News 24 E con questo è tutto, vi lascio agli aggiornamenti sportivi, quindi alla C-Sport, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Buonasera da Maria Chiara Sigillò, ben ritrovati alla C-Sport. In apertura la Superlega, ieri al Palavalenza è andata in scena la sfida tra Tonno Callipo e Ravenna per la partita da dentro fuori di Coppa Italia. Vediamo com'è andata. Tutto come sei mesi fa, Ravenna è spugna vivo e si conferma bestia nera della Tonno Callipo Calabria. Dei play-off challenge agli ottavi di finale di Coppa Italia. Gara secca che fa sorridere la bunge e massicare amaro i tonni di Calabria, chiusi in gabbia dai colpi dei romagnoli. A far malissime ragazzi di Tubertini, il ragazzo è arrivato dall'Austria, Pulch Buchinger, autore di 25 punti, 5 ace ed eletto MPV del match. E' lui a spezzare gli equilibri del primo set e a lanciare gli ospiti nel terzo e quarto parziale. Nel mezzo, la riscorsa giallorossa messa in pratica solo nel secondo set. Dal naufragio in Coppa non si salva praticamente nessuno. A pesare su Coscione e compagni, una condizione fisica ancora non al top e un'amalgama ancora tutta da trovare. Ai quarti di finale del trofeo tricolore ci va Ravenna. Per la Tonno Callipo tutto rimandato al campionato. Domenica al Pala Valencia arriva nei campionissimi Civitanova. Davibo Valencia per la CNews 24. Dunque Ravenna si conferma bestia nera per i giallorossi. Allora sentiamo il commento a margine di coach Tubertini. Andare a analizzare una partita del genere non è confortevole perché il primo set è ok, sapevo che saremmo stati col braccio un po' rigido, la tensione, giocare in casa, insomma c'era l'emozione, ho visto da parte i ragazzi, la battuta non era sciolta come al solito, l'attacco non era anticipato, però ho visto qualche difesa, dopo insomma c'è hanno provato a rientrare, lì non ero particolarmente preoccupato, dopo il secondo set ho visto una bella reazione, siamo entrati secondo me giusti nella partita e poi dal terzo set, insomma un turno di Buchegger ha spaccato il set perché forse un paio di palloni che potevano anche uscire sono stati giocati, non erano battute semplici, sono stati molto bravi lì a spaccare il set con la battuta e da lì abbiamo faticato a ritrovare l'attacco, il ritmo sul cambio palla, quindi terzo set brutto su tutti i punti di vista che però non mi fa pensare che siamo questi qua. Il campionato è questo, quindi c'è Civitanova qua, è una partita difficile, è sicuro che ci arriviamo, forse no, con le spalle una partita non proprio positiva, dobbiamo essere molto bravi, molto bravi in questo momento a non facciarci la testa ma a rimanere su tutto quello che abbiamo fatto fino adesso e poi cominciare a scoprire giorno dopo giorno ancora cosa possiamo e cosa dobbiamo essere. E lo sentivamo domenica, è tempo di campionato, a vivo arriva Civitanova per la prima, in merito pochi minuti fa abbiamo raggiunto telefonicamente uno dei protagonisti in entrambe le squadre, si tratta di Gian Lorenzo Blengini, allora sentiamo cosa ci ha detto. Verro giù a vivo in visita alla Callipo, starò a vedere l'allenamento sabato, starò a vedere la partita domenica e anche casca a pennello. Sono squadre che hanno ovviamente obiettivi molto differenti, insomma la Lube è reduce da una stagione trionfale dove ha vinto Coppa Italia e Scudetto e quindi chiaramente una delle grandi favorite insieme a Modena, Perugia, credo e Trento. La Callipo è una squadra che dovrà ottimizzare il proprio potenziale che quest'anno credo sia davvero ben allestito, ben strutturato, ben equilibrato. Chiaramente l'obiettivo è differente, cercare di centrare una delle prime otto posizioni che qualifica per il playoff e poi una volta qualificato il playoff togliersi delle soddisfazioni e credo che abbia tutte le carte in regola per farlo. È chiaro che poi a tutto questo si aggiunge il fatto che è una prima di campionato, siamo ancora all'inizio, quindi le squadre, soprattutto una squadra come la Callipo che ha cambiato molto rispetto allo scorso anno, ha bisogno di un po' di tempo per riuscire a trovare i suoi meccanismi e il suo gioco migliore. E adesso spazio alla Serie D. Ieri la Vibonese è tornata sconfitta dal recupero della prima giornata di campionato contro la Nocerina. Oggi pomeriggio era prevista una conferenza stampa indetta da Campilongo, rimandata a sabato mattina. Riviviamo allora i momenti più importanti della partita. La batossa nel derby, la sconfitta di Nocera, nel mezzo la porta in faccia, l'ennesima, ricevuta questa volta dal Consiglio di Stato, che non ha concesso la riforma dell'ordinanza emessa la scorsa settimana dal Tar del Lazio, che aveva detto no all'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia della decisione adottata dal Collegio di Garanzia del CONI, che di fatto ha relegato il club Rosso Blu alla Serie D. Campionato difficile, a cui la Vibonese pare ancora non essersi calata alla perfezione. Le prime avvisaglie erano arrivate ad Acireale, poi il K.O. Amarissimo contro la Cittanovese. E adesso la disfatta di Nocera, segnali che hanno fatto suonare l'allarme in casa Rosso Blu. Nel recupero della prima giornata di campionato in terra campana, decisiva questa assaffilata da 35 metri di Marsili, che sorprende Brugnoni e regala i tre punti ai Molossi. E come se non bastasse, nel finale si fa male anche Capitano Bodo, per un metà settimana da dimenticare. Da Vibo Valencia, per la Cineus 24. Vediamo allora la classifica aggiornata. Cambia poco o nulla per la Vibonese, che rimane ancora ferma a quattro punti, mentre sale appunto la Nocerina a undici punti. Andiamo a vedere però il prossimo turno completo di Serie D. Acireale Igeavirtus, Cittanovese Palmese, Gela Ebolitana, Gelbison Ercolanese, Nocerina Isola Capo Rizzuto, Paceco Palazzolo, Portici San Cataldese, Roccella Messina, Troina Vibonese. Quindi un'altra trasferta per la Vibonese. Con questo è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Visita il sito www.lacineus24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. La C-News 24 anticipa l'informazione. L'edizione giorno alle 13.45 e l'edizione sera alle 19.15. La C-News 24, la Calabria che fa notizie. La C-News 24, la Calabria che fa notizie.